In archivio i risultati delle elezioni regionali, si attendono ora i riscontri alle dichiarazioni in campagna elettorale, i riflettori si accendono a Messina sulle amministrative della prossima primavera. Di candidati a sindaco ce ne sono già due certi, si tratta di Alessandro Tinaglia, del Movimento Reset, e di Fabio D'Amore per l'MPA. Si attendono adesso i nomi del PDL e del Partito Democratico. Per quanto riguarda il centrodestra, il nome più gettonato è quello di Gianfranco Scoglio, già assessore ai lavori pubblici e city manager del Comune di Messina, ma la scelta del candidato potrebbe passare per le elezioni primarie. Per il centrosinistra potrebbe scendere in campo uno tra Giuseppe Grioli e Felice Calabrò, ma i nomi ovviamente potranno essere definitivi solo dopo che sarà chiaro il quadro delle alleanze. L'asse PD UDC, che ha portato Rosario Crocetta alla presidenza della regione, potrebbe replicarsi anche a Messina, costringendo il PDL, che prima però ha l'obbligo di rinnovarsi dopo la netta sconfitta, a correre da solo o con altri alleati. E bisognerà tenere d'occhio anche per le amministrative di Messina la cosiddetta antipolitica, perché attualmente quello di Beppe Grillo, numeri alla mano, ha la regione il primo partito. Di certo anche il Movimento 5 Stelle avanzerà una proposta di candidatura a sindaco di Messina ed in tal senso c'è un dibattito aperto con il pacifista Renato Accorinti.